Buongiorno, benvenuti alla zuppa di oggi sabato 6 ottobre. Quali sono le notizie fondamentali sui giornali? Vi dico subito che il tema di oggi ovviamente è la manovra economica, i cui dettagli si stanno andando a delineare perché il documento è stato presentato ieri notte e soprattutto perché come titola oggi il Corriere della Sera arriva il no dell'Europa. Sostanzialmente Moscovi e Dobronsky, il vicepresidente Lettone, hanno deciso che la manovra italiana non va bene, insomma sono riusciti ad approfondire la manovra italiana nel giro di poche ore. Devo dire che l'avevano detto che la manovra italiana non andava bene prima ancora che arrivasse la lettera del governo, questo per dare il senso della approfondita analisi che questi signori fanno della manovra italiana. Io non sono qui a criticare l'Europa né questi due commissari, anche se varrebbe la pena di dire che se gli italiani sono fuori luogo alcune volte nelle loro considerazioni, questi commissari sono insopportabili nelle loro prese di posizioni contro l'Italia, difendere l'Italia anche se ci fosse Belzebù a governarla rispetto a Moscovi e Dobronsky, quindi figuratevi un po' voi. Ma il punto fondamentale è questi signori come si permettono a criticare una manovra prima ancora di averla vista, cioè hanno quest'area saccente per la quale probabilmente non criticano la manovra, ma criticano il fatto che questa manovra rompe una idea consolidata in Europa e cioè che la crescita parsa soltanto attraverso le ricette stabilite da Bruxelles. Vi vorrei segnalare il Daily Mail di un paio di giorni fa con il balletto della May, che i giornali italiani hanno ricordato come il balletto della May, ma in realtà la May ebbe quel grande successo al congresso conservatore inglese proprio perché disse che avrebbe abbandonato la politica dell'austerity e dei tagli degli ultimi 8 anni. Sono a favore di un maggiore deficit, cioè del debito che verrà pagato dai nostri figli? No! Penso che questa sia una manovra fatta bene? Assolutamente no! Chi mi conosce ha visto in queste zuppe tutte le critiche che io faccio al reddito di cittadinanza e queste minchiate, però l'idea che la ricetta giusta sia quella di questi signori, insomma forse ce l'hanno soltanto Alesina e Giavazzi, che oggi ci spiegano non si cresce mandando in pensione a 62 anni, avendo altri 20 anni di attesa di speranza di vita, non si cresce pensando che il gioco a somma zero sia quello di sostituire 300 mila neopensionati con 300 mila giovani, non si cresce con i sussidi a chi lavora. Sono cose che più o meno ho scritto anch'io oggi sul giornale, nella zuppa, sono anch'io convinto che non si possa crescere attraverso questo decreto assistenziale, ma quello che io chiedo ad Alesina e Giavazzi, loro sarebbero d'accordo invece su una crescita tagliando radicalmente le tasse come prevedeva il centrodestra, con una flat tax mostruosa come avremmo voluto noi liberisti e monetaristi tremendi avremmo voluto fare. Bene, se loro credono e ritengono che con un shock fiscale si cresca, sappiano che quel shock fiscale non sarebbe stato reso possibile da questa Europa che loro stessi oggi invece trovano come alleata nella critica alla manovra del governo. Quindi quello che voglio dire, la critica come spesso avviene è un po' più sofisticata, non è tanto sui numeretti, ma è sui contenuti di quello che questi pazzi stanno facendo. Fubini dice che il 2,4% sarà un dato di deficit molto inferiore a quello che poi si verificherà alla fine. Tutti i giornali, tra cui il Sole 24 ore, dicono che mancano ancora 4-5 miliardi per finanziare questa manovra da 40, perché 20 sono fatti in aumento di deficit e gli altri 20, che sono le manovre di maggiore spesa fatte da questo governo, devono essere recuperate. La cosa che io trovo fantastica è che oggi non so quale giornale ci dice come risolveremo tutti quanti i problemi. I problemi saranno risolti dal fatto che ci sarà, mi sembra il Corriere, ma non solo Repubblica, una missione di Roberto Fico in Europa. Eccola là. Secondo voi arriva il Presidente della Camera, quello là che conosco bene, ho intervistato recentemente ad Atreiu. Secondo voi la missione di Roberto Fico in Europa a cosa serve? Zero. Quanto ci costa? Ci costa. Allora, quello che io mi chiedo, molto semplicemente, è tutto questo ambaradan, tutta questa liturgia, il Presidente della Camera che aveva, ma stai qua! Tra l'altro in Europa si vede con Moscovici e Dobrowski, ma che si deve dire con questi? Non conta nulla presenta la Camera per la finanziaria, non ha nessun peso ed è pure opposizione all'interno del governo riguardo all'immigrazione. Io la trovo quella che un tempo si sarebbe chiamato il teatrino della politica. Fico che va in Europa. E tra l'altro incontra Tajani. Guardatevi da Ciampini a Roma, fate prima, che è un bar a Piazza San Lorenzo Lucino, a due passi dal Parlamento, dove c'è sempre anche dei Tajani. Insomma, mettetevi d'accordo, prendetevi una birra là, fate prima, piuttosto che andare in Europa a vedersi. Ma che vedete a fare in Europa con Fico? Vabbè, faremo il viaggio di Fico, che ovviamente ce l'ha fatto con un volo low cost e tutte queste minchie qua. Ma stai a Roma che spendiamo anche quei 50 Euro che spendi, sono troppi. La cosa che più è divertente oggi è come cercheranno, secondo i giornali, di finanziare questo deficit in più che per ora non è finanziabile. La cosa più bella è quella che aumenteranno gli acconti IRPF e IRES. Come voi sapete, noi paghiamo a giugno del 2019, aprile, maggio, giugno 2019, paghiamo il saldo delle imposte del 2018 e gli acconti per il 2019. Ebbene, questi acconti spesso sono 90%, non so, della metà di quello che noi abbiamo pagato l'anno scorso, aumenteranno questi acconti, cioè ci chiedono di aumentare l'acconto col quale noi dovremo pagare la tasse. Si tratta di un furto, l'acconto è un furto, aumentare l'acconto è una cosa scandalosa, quindi che succederà? Che tra l'altro l'acconto non ha nessun significato economico, perché l'acconto, lo dice la parola giusta, è qualcosa che do prima e poi alla fine non lo do più, perché la do l'anno precedente rispetto a quello che dovrei pagare. Quindi non dà nessun sollievo economico, è soltanto una posizione di cassa, cioè come quando tiro dei soldi fuori dalla cassa in anticipo, poi li devo riversare. Quindi lo Stato l'acconto, perché cosa se li porta a casa? L'acconto se li porta a casa allo Stato soltanto per far quadrare i conti del 2019. Scandaloso. Altre due notizie di giornate che secondo me sono interessanti, i sondaggi del Corriere della Sera danno il Movimento 5 Stelle al 28,5% e la Lega al 34%, Forza Italia all'8-7,5%, quindi disastro totale, mentre il PD fermo al 17%. Infine Macron, sapete chi incontra Macron? Non incontra Tajani, non incontra Moscovici, non c'è bisogno di quello che si parla dal telefono, incontra all'Eliseo Saviano. Il Presidente della Repubblica Francese incontra quello che ha definito il Ministro degli interni italiani, il Ministro della Malavita, citando Giolitti. Questo è il punto vero che a me fa impazzire, cioè uno poi ce la può avere, non può avere con la Francia, può dire ma voi sbagliate, non sbagliate, ma vi sembra una cosa normale che quello si veda all'Alsia, al Quirinale. Io vorrei che ci fosse un paese come l'Italia che si prendesse al Quirinale tutti quanti gli esuli francesi, tutti gli antimacronani francesi e si riportasse a colazione. Questo secondo voi è un signore, cari amici del Foglio, che volete tanto bene, questi signori, Macron, il vostro adorato Macron, a cui oggi dedicate i vostri, come al solito, io amo il Foglio lo leggo da mattina, sempre, tutti i giorni. Allora voi state dedicando una pagina all'uomo che viene, a Macron, che riceve, chi sapete che riceve? Saviano. Per i suoi alti meriti letterari, secondo voi, o per il fatto che è il nemico giurato di Salvini? Ultima cosa che vi segnalo oggi è Feltri su Chiambretti. Oggi la spalla di Libero è dedicata a Feltri che dice, cari amici di Mediset, mi fate schifo, Mediset lavoro, quindi ho una certa attenzione e prudenza nel considerare schifoso l'azienda di lavoro, perché ovviamente la considero invece favolosa, ma Feltri ne ha ben ragione dal suo punto di vista, perché dice che lo trattano sempre come un ubriacone, un vecchio rincoglionito e dice io smetto di fare anche il collaboratore di Chiambretti perché non è per me accettabile che strisce la notizia e questa azienda si permettano di trattarmi in questa maniera. Quindi chiudo con Mediset, speriamo che non chiuda anche con Quarta Repubblica o con Matrix, dove noi sappiamo essere sempre un ospite favoloso, anche se penso che questa volta Feltri è davvero arrabbiato. Leggere oggi Libero per capire. Darei a tutti quanti voi un saluto, devo andare a scappare ora, sono le 10.25, sono quasi in ritardo all'intervista che farò a Cottarelli e a Brambilla al festival, a un incontro della Germini qua a Milano, quindi vi devo veramente salutare dall'appuntamento domani con la zuppa di porro come sempre puntuali. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.